No, no, è stato soltanto un crampi, tante partite avvicinate, io che non ho giocato tanto, il corpo lo sente, ma niente di grado. Diego, quali sono gli aspetti che salvi in questa partita? Penso soprattutto la voglia di andare a prendere il risultato, cioè di rivaltare il risultato, stare sotto due volte dopo una sconfitta come quella che abbiamo sofferto contro il Napoli non era facile, è un punto che non ti può lasciare contento, io non sto contento per aver pareggiato, ma sì per la voglia che ha dato la squadra. La sconfitta della Lazio e il pareggio del Milan aumentano la vostra amarezza? A metà, perché è meglio che loro perdano punti, è vero che se noi alla fine non vinciamo niente serve, però era meglio se loro, forse è stato peggio se loro vincevano e noi pareggiavamo, ovviamente. Quindi penso, l'ho detto adesso, è arrivato il momento di non vedere più le altre squadre, vedere noi stessi e cominciare a vincere, basta. All'interno dello spogliatoio come state vivendo, come state vivendo nello spogliatoio tutti questi infortuni che vi stanno capitando? È un momento di sfortuna che stiamo trovando, dobbiamo stare tranquilli nel fatto che noi facciamo di tutto per non farci male, anche lo staff, lo staff medico ovviamente non vuole questo, quindi è un momento di sfortuna, di tante partite, di giocatori che magari hanno un po' più di difficoltà, come il caso mio, che purtroppo abbiamo un po' più di fragilità muscolare, però speriamo che finisca e possiamo stare tutti sani, perché quello aiuta poi per il finale della stagione. Grazie, ciao. Grazie.